Ottava edizione del Memorial Stefano Cucchi, una tradizione che si rinnova quest'anno anche per ricordare la mamma Rita recentemente scomparsa. Stefania Cappa. Una marcia importante che vogliamo rinnovare anno dopo anno per i diritti, per tutti i diritti. In tanti sotto la targa di Stefano Cucchi per l'ottavo Memorial, una staffetta dei diritti a 13 anni dalla sua morte, che assume un significato ancora più importante a pochi giorni dalla scomparsa della mamma Rita Calore. Grande combattente per la verità e la giustizia. Il primo Memorial senza mamma ed è inutile che faccio finta di niente, però mamma è qui con noi e sa che noi siamo e continueremo ad essere un'umanità in marcia. Abbiamo fatto tanto e tanto faremo ancora. Tante le tappe nei 18 chilometri, dal parco degli Acquedotti all'Appio Claudio, passando per luoghi simbolo della storia di Stefano e dei diritti umani, civili e sociali, come la scuola Pisacane. Fino ad arrivare davanti a Montecitorio. L'aria Cucchi andrà lì dove si prendono le decisioni a portare le nostre, le vostre voci, della gente che ogni giorno si scontra troppo spesso contro istituzioni ostili.